Tutto pronto, partiti cavalli della seconda corsa Fase di studio dal gruppo emerge Key Country che però non vuole farsela davanti attende gli altri che da dietro però non rinvengono allora alla fine si porta definitivamente in vantaggio nei confronti Bridge a Tyre Gomek poi ancora Baldissero, un'altra coppia formata da Pleasant King con all'esterno Dickman a chiudere il gruppo ci sono Aliore e Soffio del Vento rispetto alla precedente qui si va più piano, la tattica è molto più ragionata Key Country in vantaggio nei confronti di Baldissero in questo momento in terza posizione c'è Dickman che precede in quarta il favorito Bridge Focus Wish che è quella all'interno, poi ancora Pleasant King, Aliore e Soffio del Vento la corsa non ha subito scossoni ma è cambiato il leader Baldissero è in vantaggio in questo momento nei confronti di Dickman che è quello con la giuba arancio in terza posizione quasi di inerzia emerge Pleasant King, poi Key Country in quarta con la favorita Bridge Focus Wish che veleggia in quinta posizione a precedere Aliore e ancora a chiudere il gruppo Soffio del Vento siamo all'altezza del rudere con l'andatura che non ha subito ancora scossoni e Baldissero in vantaggio, Dickman è il primo ad andare a premere sulla sua sella ed è a mezza lunghezza di margini, in terza posizione all'esterno c'è Pleasant King poi Bridge Focus Wish, Key Country, ancora Aliore e poi Soffio del Vento si muovono le acque in particolare da dietro, cercano di ricucire il gap e allora Dickman sempre in continua percussione proprio sullo stesso Baldissero poi ancora Pleasant King, questa è la prima linea attende gli eventi Bridge Focus Wish che è quella che in questo momento viaggia meglio Aliore, Soffio del Vento che sono chiamati a maggior impegno Key Country che invece perde contatto, siamo in dirittura d'arrivo comincia la lunga volata, almeno 5 cavalli che se la giocano con Baldissero ancora in vantaggio, Bridge Focus Wish che ne segue la scia cercando di sfruttare il massimo poi Dickman più al centro della pista, ancora Soffio del Vento Aliore che invece cerca varchi più interni Bridge Focus Wish che va all'attacco di Baldissero dal centro della pista Soffio del Vento, Pleasant King Mucchione con 250 metri ancora da percorrere Bridge Focus Wish che passa di slancio ma deve attendere ancora l'attacco di Soffio del Vento che adesso si produce nello sforzo Baldissero che è in vantaggio Soffio del Vento, Baldissero, Bridge Focus Wish questi tre che se la vanno a giocare ma alla fine Soffio del Vento che emerge e li beffa vice numero 5 dello schieramento 3,41 la quota per il numero 5 dello schieramento Soffio del Vento, figlio di Casamento alla prima vittoria in carriera al decimo tentativo Francesco Dettori in sella il training è quello di Mauro Riccioni colori di Elvira Riccioni vediamo per il secondo e il terzo posto 5 poi crediamo 4, Baldissero e 1, Bridge Focus Wish 5, 4, 1 è un ordine d'arrivo del tutto ufficioso ma molto probabile della seconda da Roma è tutto grazie a tutti 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 grazie a tutti